A seguito di diverse segnalazioni pervenute al Comune e dei nostri servizi giornalistici, il commissario straordinario Maria Grazia Brandara ha effettuato un sopralluogo incontrato a Nicolizia e altre zone sparse nel territorio comunale dove ha riscontrato una situazione di incuria. Preso atto della situazione, spiega il commissario, sono intervenuta presso la dedo all'ambiente da dove ho avuto garanzia che provvederà immediatamente, per quanto di competenza, ad eliminare lo sconcio riscontrato e segnalato. Comunque per raggiungere determinati risultati è necessaria la piena disponibilità anche dei singoli cittadini affinché controllino che determinate situazioni non vengano nuovamente a crearsi nell'interesse collettivo e di quanti frequentano le varie zone del territorio comunale di Licatese. Purtroppo, conclude la Brandara, non posso non affermare che ci troviamo di fronte ad una vera e propria emergenza per quanto riguarda la pulizia del centro abitato e di tutto quanto il territorio comunale di Licata. Il caso più emblematico è quello della strada panoramica che conduce dalla città a Mollarella, battuta anche da molti cittadini della provincia di Caltanissetta, dove all'altezza del bivio per la Nicolizia si è creata una vera e propria discarica a cielo aperto.